E ora che abbiamo preso il trenino, siamo sulla sommità di Buda, perché questa che stiamo vedendo, che state vedendo, che sto inquadrando, al di là del Danubio, è Pest, Pest, e qui da dove siamo noi invece è Buda, che adesso la prospettiva ci consente anche di vedere il Danubio un po' più da lontano. Budapest, caldo torrido quest'oggi, 16 luglio 2009, alle 17.16 minuti primi si boccheggia, c'erano quelli della protezione civile che in piazza distribuivano buste di cellofan trasparente piene d'acqua da bere o per rinfrescarsi, e qua di acqua ce n'è veramente tanto, l'acqua marrone del Danubio 2, questo è un esempio, tutto da verificare, eccolo lì il Danubio, perdita d'occhio, quanti ponti, uno, due, tre, i ponti di Budapest, vederla illuminata stanotte sarà una cosa fantastica in questa città.